No, lì è la stradina, perché andiamo ancora lì in una stradina, va dai. Voi ti ho avuto questo pezzo qua di tre? Tanti volte non ricordavo che andavo più, vero? Ma lì, allora, pure niente, il ripidone. Eh, perché già è l'entrata, bisogna farlo troppo. Dopo l'accendio. Sì, per esempio, andiamo un po' di qua, così. Sì, andiamo proprio il po' di qua, così. Vedete, dai, andiamo via sentita. Andiamo, andiamo via sentita. E' un po' di qua. 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 Ma sei riuscito? Andiamo fermo, però. Quando l'hai fatto? Andiamo fermo con la sua tecnica. Con la sua tecnica. Il peggio in avanti, sul davanti. Sì, ma io mai provavo di farlo. Sì, però con questa è più difficile, con la muscolare riesco. Perché pesi di più? Sì. Eh, beh. No, no, ho fatto mia, perché ho paura di incattarmi da fermo. Tu stai registrando? Sì. Ah, ti pare. Toglio il suo pezzo. Devo. Vai. 2.000 avanti? Sì. Che domande. Vai, vai, Andrea. Eh, adesso prova, tu Gianluca. Dai tranquillo, rilasciati. Sì. Posso farlo, Gianluvino? Sì. E questo è quello a servizio. Sì. C'è il buco lì, eh. Furca. Non devo sbagliare, insomma. No, no, lì ti impianti. Ah, c'è un pochino. C'è un buco. C'è un buco. Attento. Ma dove sono andato, troppo pianto. Abbiamo, dove c'è Begnamino? Adesso, adesso. Aspetta, Begna, che prova a impiantarsi. Ah, ah, ah. Sì, tassi, no? Vi affaro mai, mio Gio. Ah, ah, ah. Hai visto una scena di gattata? Sì, sì. Grande, grande. Questo è un abrio, io. Ah, 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 ah. Sì. Hai fatto la versione difficile? Eh. Pregheri, strettina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.